Napoli è una città che vive in superficie, una superficie piena di luce, ma in realtà c'è tutta una Napoli sotterranea. Le due cose poi tra l'altro sono anche fuse, perché spesso le cavità sotterranee ci sono, perché da lì si sono estratti i mattoni in tufo giallo con cui si è costruita la parte di sopra. E queste cavità sono un tesoro di catacombe, di ipogei, di epoca greca e romana, di acquedotti, c'è la galleria borbonica, il cimitero delle fontanelle. Però ci sono anche usi impropri e soprattutto c'è da verificare il potenziale dissesto idrogeologico. Il Comune di Napoli già disponeva di mappe cartacee, come si dice, 2D, ma con questo progetto innovativo fatto con i grandi esperti di università della Federico II e con società specializzate, passa al 3D, quindi è una vera e propria mappatura tridimensionale delle cavità di Napoli, è un progetto su cui stiamo lavorando da molti mesi, per la conoscenza, per lo sfruttamento anche turistico, non solo, stiamo progettando anche due stazioni della metropolitana che escono in cavità, ma anche come metodo di prevenzione dal dissesto idrogeologico. Conoscendo le cavità si può fare poi il monitoraggio delle cavità stesse, a volte si possono trovare situazioni di dissesto, situazioni di allagamento, situazioni da monitorare e dal monitoraggio poi nasce la prevenzione.